Conteggio dei quattro lati e poi spiego anche che nei primi otto passi possono esserci dei passettini diversi, grossi passi diversi o passettini, qualche particolare diverso. Rivediamo il primo muro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 volte il tallone, 1, 2, 3, 4, 2 volte basso, 5, 6, 2 all'inietro, 7, 8, 4 volte, 1, 2, 3, 4, in avanti, 5, 6, 7, 8, all'inietro, 1, 2, 3, 4, in avanti, più giro a destra, 5, 6, 7, 8, avanti per sinistro, Giro a sinistra, 3, 4, 5, giro a sinistra, 7, 7, 8, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8. Quando girate un quarto a sinistra, lasciate già il peso sulla gamba sinistra, il peso non è perché avete imposto, perché andate a prendere con questo palco destro. Secondo numero, quindi siamo alle ore 9, vuol dire che la danza, il ballo, la coreografia generale in senso anti-orario. 12, 9, 18, 15. Ripeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. Parto a sinistra, 1, 2, sinistra, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terzo lato, ora vedrete il contrario, parte sempre al piede destro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stacco destra, sinistra, destra, parte le mani, 5, 6, 7, 8. 4 volte avanzo, 1, 2, 3, 4, avanti, 5, 6, 7, 8. Inietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a sinistra, 7, 8. Sono arrivata già le ore 15. ultimo lato, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mezzo a destra, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi, quando faccio questi ultimi movimenti, fa da terro la sinistra. Quando io faccio il passo più in mezzo giro a sinistra, il passo avanti più in destra, lo ripeto più un quarto di giro, è la sinistra che fa da terro. Vedete che rimane quasi al pavimento, sul posto. Altra cosa, gli shuffle, non fatevi extra lunghi, fatevi piccolini, perché altrimenti con la velocità andrete fuori tempo. Fatevi piccolini, più piccoli fate meglio è, perché vi assicuro che ci sono musiche molto molto veloci, e se ralentate sugli shuffle, finirete per forza fuori tempo. L'errore comune del pezzo è questo, dopo che con il primo mezzo giro a destra inizi con la gamba sbagliata, perché è per il piede sbagliato, il peso non deve avere il destro e l'inizio col sinistro, non il contrario. E cos'altro dire? Prima ottava ci sono delle piccole varianti, anziché sollevare la gamba destra iniziando leggermente, posso semplicemente riappoggiare il destro vicino al sinistro e di nuovo riappoggiare i varianti due volte tra loro, cioè posso fare 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, oppure posso appoggiare la punta, 1, 2, 3, 4, e 5, 7, 7, 8. È una piccola variante, quindi sono tutte corrette, non è sbagliato né questo, e neanche questo. Ci sono altre varianti, posso fare questo, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, scusate, ho contato male. Quindi cambio la prima ottava con questi passi, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8. Ma questa è una cosa in più, sono passi che ancora non sapete fare, posso anche fare dei giri, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, sono cose in più. Però è giusto per dirvelo che se dovete fare questo tipo di passo, non ho spiegato io, ballo da nuovo errato, ma sono varianti. Adesso balliamola, mi raccomando, passi piccoli, perché è veloce, anche se ho cercato di trovare una musica, non è velocissima, per le prime volte.